Ciao a tutti, bentornati, non lo so se siete bentornati, allora questo titolo è Alice Madness, è un titolo per sociopatici e lo proviamo infatti perché qui con noi c'è Germana che ha detto ma mi piacerebbe provarlo questo giochino, non è che c'è sta voce, non voglio dire a lei sta qua una volta tanto, non sappiamo se parla però vi assicuriamo che c'è poi comunque siamo Alice e siamo in terapia perché non lo sappiamo, ci ha molestato il bianconiglio i nostri ricordi ci distruggono probabilmente, quindi siamo in terapia e dobbiamo andare a prendere le medicine, c'è stato un lungo preambolo in cui si sono viste le sue ossessioni però adesso cerchiamo di capire dove andare a prendere le medicine, ok poi si fuma, ok e ah scusatemi se vedevi di spostarmi così in fretta non è colpa mia, la sensibilità del mouse che sembra per intossicati, non lo so, fatti tua, li posso venire? cerchiamo di... ma a parte che posto è questo? che casa di cura è? una casa di cura? secondo me qua dentro posso andare troppo qualcosa, devo andare a prendere? nella farmacia... allora non so se riuscite ad ascoltare la musichetta, ti per attivare la visione delle persone, così Fede vomita, allora li metto quella in terza persona, si grazie come questa è una cosa delle ragazze, bamboli di pezza distrutte, senza una gamba... ma è tipo una casa per i folli? che ne so, sarà un noir a sfondo religioso... scendiamo in strada, è detto che la farmacia sta in strada, il medico bisogna cercare questa farmacia... prima o poi parlerà a Germania, ah e soprattutto Germana non è il suo nick, è proprio il suo nome questo, voglio dire, è meno facilissimo... ma e sti bimbi? ah è una casa per i matti... vedi? ci sarà una porta per uscire secondo voi? continuo a girare... ma ci sarà una mappa secondo te? premiamo... M... no ma è... non fosse per i disegni e la fotografia questa potrebbe essere la mia stanza al manicomio... ecco vedi? è un manicomio... allora Alice è stata rinchiusa con un bel TSO... le porte non si aprono... io continuo a girare... sono andata l'uscita... ma quanto sono superiore... allora qui c'è gente che butta dei libri o libri che vuole... non ho capito... bimbi sociopatici con una casa... troppo bella per il manicomio... matta come un cavallo e poco interessante... ah complimenti... ha ucciso i suoi... Alice ha ucciso i suoi? ora si... se fossi questa Alice ha ucciso le pulite qualcuno... allora... però puoi uscire... ma non ho capito che il manicomio è dove ti lascia uscire... perfetti... allora... ma forse lei adesso è stata a dieci anni in manicomio e adesso sta in cura da questo dottore qui... ah dici? che però sta ancora in manicomio... ah Whitechapel... i delitti di Whitechapel sono i delitti del... interrogazione per tutti... eh come si chiama? Jack lo squartatore ve lo dico io... lui si lo so... che bel quartierino il manicomo Jack lo squartatore... oh che posto ridente... le mignotte... perché a Whitechapel c'erano le mignotte... anche perché... cioè girava lì... il gioco squartatore... allora... questo è un giorno da facci mignotte... o comunque qua sono poco... sono anche belle tracagne... allora... qui vendono delle robe... file meets... no... non è... non avere paura... sta in manicomio certo che c'ha paura il gatto... pure io c'avevo paura... no il gatto bianco... adesso no il coniglio... ah lo inseguiamo dici? è infatti... ma inseguiamolo! e mo fisco... che mi crepano... ho sbattuto con un muro... micetto... di qua... ah ma aspetta... è un micetto intelligente... ah il gioco tecnicamente nonostante il motore è quello di aria... l'è fatto veramente bene... Germana mi indicato a girare perché mi sono perso a guardare le mignotte a me strade... ma perché corro come se avessi le morroidi? ce le hai... ma lo sapevo... il manicomio è l'emorroide... e mo? gatto di merda? mi ha detto... mi ha portato a cuomo mi stupro... che sarebbe il segno... finale... ah... spazzesce per saltare... ah c'era il video vabbè l'ha saltato... ah gli abbiamo dato fuoco... che è una cosa tipica degli schizzati... si e lei è uscita ustionata da questo incendio... ah qui ti fa un riassunto... nel caso avessi premuto esche per delle ore... ho fatto... no... chi li ha caduto a gedaan... chi lì ha trovato il posto davanti... dove sarà la piaccia di prend centres... per entrare... un te der definitely di dietro... che le piacciono il ticcio... quello che mi ha tirato... come circa una... Mr D... ma quello che so va molto a male di tusse... ho mantenuto il segreto... lo sentito ok,... sono morti tutti per colpa mia... non ho potuto fare nulla... ma mi stiamo facendo ormai ascoltare il video è estorsione una donazione vabbè non è che c'è la vostra informazione però si può parlare ormai di vi perché non si può fare dei morti l'ha collocata nel suo esaurimento ma esattati consigli fanno quasi più schifo di condizioni di single fai obbligare la donna a portare a letto siamo a questo livello ci sono dei piccionari di solito gli psicopaci tolgono il collo ai piccioni non ho mai capito perché quest'altro luogo comune ma non mi fa togliere ah ci per guardare è carina però sta visuale c'è la vecchia c'è la vecchia? andiamo appena a calciare la vecchia si è tipo a sassin creed comunque questa cosa della visuale vuole rimandarmi il manicomio non dirò di no ho una sete che non ti dirò ah l'amburiatona di merda ecco vedi boh che la vecchianella dica drink ma chi l'ha prodotto sto po' non lo so spicy horse ah è della electronic arts che ovviamente è al posto di investire i soldi in fifa fa sterola ha ucciso i suoi siamo andati nel corrotto paese delle meraviglie l'ex paese eh credo di si oddio questo è una scena di un altro film che non mi ricordo che rimane ha parizzato a mezz'aria ti vengono non mi ricordo fidi fantascienza comunque rompi i contenitori per scolare le rose per la salute o i denti per potenziare le armi si perchè all'inizio c'era denti e si no la rosa colora la tua rosa ah prima me abbiamo un vestito ah siamo nel corrotto paese si col teschio dietro è già sporco di sangue si ma le rune elfiche si bellissime qui siamo un po' pandora eh l'acqua stimatissima ferro di cavallo vale notare soprattutto l'ombretto eh no l'eyeliner anche no 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 eyeliner e ombretto il capello liscio ovviamente lungo il liscio credo che abbiamo aspettato più frame per potenziare i capelli che si muovono no come l'hanno fatto non fare il prepotente sono davvero al limite perfetto quando non sei al limite hai sempre troppo margine non sei affatto d'aiuto ma sai che posso esserlo mi spaventerò da sola quando sarà necessario oh 8 minuti non abbiamo giocato un solo secondo no abbandona la speranza c'è una nuova legge nel paese delle meraviglie è una giustizia molto approssimativa qui siamo in pericolo tu stai in quartia ma fino a poi il migliore è lui dei personaggi che mi ha valli di lacrime che bel posto ridente ok ha salvato vado su posso dare dei cazzotti ma che può fare non so ora salto faccio dire ah vediamo qui ci recupera ah devo recuperare un ricordo è vero è vero è vero hop mi ero a qualcuno oh se trovi c'è saltato per prendere la farfalla o la pallone no per andare avanti penso scendiamo di qui ah vedi ci sono i pezzi del domino che si spostano tipo eh tipo Harry Potter probabilmente questo è un ah così probabilmente non lo so l'ho visto muoversi no guarda la statua che piange no guarda nonostante questo sia diretti x10 e non 11 l'acqua la grafica si si dice la sua certo adesso il gameplay è una merda però mentre salti premi ancora bar e spazio 10 per volteggiare ah devo volteggiare dici aspetta che più la rincorsa verso dove verso di là no oh no perché sapevo che io queste cose non le so fare sono spettamente handicappato ecco da sotto ok mi sa che tutto il gameplay che vedete oggi è io che sbaglio ah devo tornare indietro ups tu che provi a saltare no vabbè sono completamente handicappato le faffaline wow ma non esiste è vero questo si iscrive si per cui è un altro ricordo vabbè se ve lo danno gratis questo gioco è giocarci se dovete dargli il denaro si deve perdere investito in un capitolo di Assassin's Creed a caso secondo me se devo saltare sui funghi di Donate's Creed inaccettabile io passi i primi dieci minuti che in play a saltare questo gioco che carino guarda c'è ah devo prendere un ricordo è veramente possibile fa veramente cacare sotto c'era una porticina guarda là sotto opto per andare per di qua che è successo? ha spesso di funzionare vabbè il gioco è crashato non so se mi interessa però che brutto gioco che crash ma che vergogna rieccoci questo gioco è veramente una merda è crashato mentre ci giocavamo fa schifo non lo comprate sai che pensavo che negli ultimi giochi che abbiamo recensito tre quarti era questo gioco una merda che colpa mia che li faccio sei colpa tu una merda e poi ti volevo ricordare che invece ho detto ah no ancora recensiamo Dragon Nest no Dragon Nest per esempio bellino recensiremo fra poco è dell'eternal famo di delle risate ho detto negli ultimi non nei primi ah sei brutta e cattiva comunque ciao gente non ci guardate perché siamo brutti ciao mi lasciate a sentire ciao ciao